E' bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video molto rapido Io sono Xyuder e ragazzi è uscita oggi con l'aggiornamento la nuova bomba fortatile Guardala lì, guardala lì in basso, che figata l'abbiamo appena trovata ragazzi L'andremo ad usare insieme, un sacco di novità ragazzi, un sacco di novità per questo Fortnite Per questa patch che arriva di Fortnite oggi, mercoledì, 11 aprile ragazzi Oltre alla nuova bomba fortatile c'è un'altra novità, c'è un'altra novità interessantissima ragazzi Forse non lo sapevi, intanto, intanto prima di dirvela ragazzi andiamo a vederla tutti assieme Andiamo a tirarla, andiamo a tirarla Vai, guardala, guardala Pronto, ti ha costruito di brutto un fortino Guarda che figata, ma ti sembra, ma ti sembra Guardalo lì fortino, andiamo a vederlo bene da vicino Andiamo a vederlo bene da vicino Di metallo, manco di legna, di metallo Pronto, con tanto di scala d'accesso Easy, easy Poi tu qua c'hai le cose, come si dice Pronto, c'hai le gomme per saltare No, poi che figata Tu passi da qua e come faceva la pulita amica Boom, spari a canestro Colpi di granata Cioè, è una figata mega galattica Intanto ci sta un balletto Ma non è solo questo ragazzi Ma non è solo questa la novità State giocando per case in squadra ragazzi E uno di voi è talmente povero e sfigato Che non ha un paio di cuffie e microfono di merda Ragazzi, guardate Ci hanno pensato Quelli di Epic Games Se andiamo a cliccare il tasto V ragazzi Pronto Nuovo pop-up con nuove emoticons ragazzi Nemico avvistato Punto esclamativo Mi servono medicinali Numero due Mi servono scudi Mi servono materiali E mi serve un'arma Ragazzi, geniale Geniale Questo nuovo pop-up Veramente, veramente Una grande figata Qua ci sta Qua ci sta ragazzi Un colpo al volo proprio così Per festeggiare Questi meravigliosi Meravigliosi Nuovi update Che sono arrivati Andiamo a rivederci Il fortino Prima che ci prenda La safe Guarda Guardalo Guardalo che bello Guardalo che bello Tra l'altro ragazzi Prestissimo Arriverà anche la nuova modalità 50 Versus 50 Che abbiamo già visto Un mesetto e mezzo fa Una figata Pazzesca Si gioca in 100 50 in una fazione 50 nell'altra Beh ragazzi Questo era veramente Un video brevissimo Che vi mostrava Il gameplay Della nuova Bomba Fortatile Vi ricordo sempre Di lasciare Un bel like Se ancora non lo avete fatto Iscrivervi al canale E mi raccomando Passate nelle live Per farvi un bel Partitozzo Insieme all'Oxoderino Noi ci vediamo presto Ciao 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 Grazie a tutti.